ciao amici sono lox bentornati sui fatti di opinioni di lox il canale via di via di malattie di sport rientrato dalla mia trasferta prima cosa che ho fatto seguire la partita di pallacanestro la partita dell'anno ovvero virtus bologna contro olimpia milano incontro molto atteso che ci doveva dare delle risposte le ha date sicuramente ha vinto la virtus per 83 a 65 successo molto netto una partita che è andata al di là comunque forse di quello che mi aspettavo sicuramente per le due squadre è una stagione molto complessa ci sono state tante assenze i problemi di infortuni i problemi di covid raramente squadra il completo lungo corso della stagione di due formazioni che comunque sono arrivate a raggiungere già per ora e la prima parte dei propri obiettivi sono i playoff delle loro coppe nazionali in particolare l'olimpia addirittura per il secondo anno consecutivo giochi playoff di eurolega che da una parte sono ancora ovviamente più vibranti di quello che può essere l'euro cup comunque in questo momento l'olimpia ha tanti infortunati ha tanti giocatori riduci dal covid aveva un blocco di assenze importanti ma la virtus invece in una forma straordinaria a parte belinelli squadra sostanzialmente più o meno a completo il gruppo si sta amalgamando sempre di più stiamo seguendo ultimamente tante partite della virtus e devo dire mi piace proprio come sta crescendo questo gruppo che già era forte già era pieno di alternative ci ha aggiunto due fenomeni mentali ancora prima che tecnici a mio avviso come ht cengheglia e ora è un complesso veramente straordinario sarà molto dura per l'olimpia quando arriveranno i playoff cercare di opporsi a questa virtus da una parte sembra di rivedere un po al fin dello scorso anno l'olimpia che da tantissimo durante il corso della stagione qui però il playoff deve ancora giocare magari fa in tempo a rimettere insieme un gruppo che in questo momento mi è sembrato stanco sia mentalmente sia fisicamente sicuramente l'assenza di mitoglu per il problema del covid è molto importante così come quello di shields però diciamo si è giocato 5 contro 5 i gruppi c'erano la partita non ha sostanzialmente mai avuto storia il break si è aperto attorno al quindicesimo a metà del secondo quarto quando la virtus ha dato lo strappo decisivo allargandolo poi mano a mano nel corso di un secondo tempo giocato in maniera perfetta vediamo i soliti dieci punti che ho tratto da questa gara a mio avviso come elementi più importanti dati statistici prima di tutto una cosa virtus 22 su 22 dalla lunetta olimpia 4 su 5 la virtus attacca valferro conquista falli l'olimpia ne parleremo nel secondo punto di questo video fa veramente una dannata fatica ad attaccare fa tantissima fatica a mettere insieme i tiri liberi soprattutto se pensiamo nel terzo quarto dove la virtus è andata rapidamente in bonus dopo pochissimi minuti e nonostante questo l'olimpia non è riuscito a conquistare falli per andare a battere poi dei tiri liberi una prestazione da questo punto di vista veramente abbastanza sconcertante delle difficoltà offensive prima ancora di difensive dell'olimpia le scelte di tiro per la virtus abbiamo avuto 40 tiri da due punti con 57 per cento e 16 tiri da tre punti col 31 per cento 56 tiri in totale quindi 40 da due e 16 da tre per quanto riguarda l'olimpia abbiamo avuto 36 tiri da due e ben 38 da tre la olimpia si è accontentata troppe volte di un tiro da tre che tra l'altro è entrato solo undici volte quindi con il 29 per cento eppure avendo tirato otto volte di più ha fatto veramente fatica realizzando peraltro tre canestre in meno 25 l'olimpia 28 la virtus scelte di tiro brutte troppe volte accontentandosi di questo tiro da tre appunto è entrato troppo poco e da questo punto di vista come sempre tante le responsabilità anche di delenie che in attacco pompa questo pallone palleggia per lungo tempo non facendo sviluppare il gioco e questo delenie a mio avviso è stato tra gli assenti dell'olimpia l'assente più grave è stato delenie che ha giocato terzo dato importante rimbalzi virtus 46 olimpia 30 un dominio assoluto jaitè sotto canestro ha fatto quello che ha voluto olimpia che peraltro l'assenza unica sotto canestro era mitoglu ma c'era bentil comunque terzeschi orribile subito non è riuscito a giocare falli a ogni azione praticamente per lui melli è partito molto bene a ins mi sembra stanco anche a ins il che sembra quasi una bestemmia certo bisogna capire questo è un momento questa partita è arrivata in un momento particolarmente complesso settimana prossima partono i player di eurolega comunque ho trovato anche sotto canestro un olimpia veramente in difficoltà palle perse 14 da bologna 7 da milano milano che comunque come equilibrio di gioco da questo punto di vista ha funzionato poi vediamo i dati un po i più individuali quarto punto della gara la french connection cordinier 18 punti 5 su 8 23 di valutazione cordinier attacca ogni volta che al pallone uno contro uno va verso il canestro e è esattamente il contrario di quello che fanno i giocatori di milano jaitè 18 punti 15 rimbalzi 29 di valutazione dominatore assoluto della gara non vedo l'ora o mi piacerebbe comunque vederlo anche a livello eurolega perché un giocatore veramente esplosivo poi in connection con teodosic è spaziale frank connection perfetta paiola paiola due punti 7 assist 17 di valutazione non la prestazione più splendente della carriera di paiola però 17 di valutazione con due punti è un dato che mi colpisce sempre molto teodosic teodosic 9 punti 2 su 2 da 3 3 su 3 della lunetta 7 assist è entrato a mettere tattac proprio i tasselli che servivano per questa partita completamente dominata a un certo momento ha cominciato a fare dei passaggi allucinanti come proprio spettacolarità come visione una partita eccellente di milos per milano melli grande melli 10 punti in 25 minuti 5 rimbalzi 12 di valutazione all'inizio è stato l'unico giocatore e nel complesso diciamo è stato il migliore di milano e soprattutto all'inizio è stato il giocatore che ha permesso all'olimpia di rimanere in partita come detto tantissime le difficoltà sotto canestro per karep tarzeski 0 punti in 8 minuti 4 falli 3 subito nel primo quarto una fatica totale a stare in campo veramente da un giocatore che ha nei falli proprio talone d'achille ma qui è stato fin esagerato bentil 15 punti ma 3 su 7 da 3 bentil bene ma nel finale e tirando soprattutto da 3 punti come detto orribile del eni un punto in 23 minuti 3 di valutazione una regia una regia veramente scadente e troppe volte polemico con gli arbitri anche inutilmente cerca delle battaglie che non portano niente l'ho visto stanchissimo anche lui bene baldasso invece 12 punti con 4 su 8 da 3 specie nel secondo quarto e l'altro giocatore che aveva permesso all'olimpia di rimanere in partita non mi è dispiaciuta la voglia piena di confusione di germain grant che comunque il suo prova a farlo anche se resta sempre un gradino più sotto dei compagni virtus prima olimpia seconda occhio a brescia che sta rimontando dietro potrebbe mettere un po di pressione anche sulla squadra di messina l'arbitraggio 37 falli paternicò mazzoni giovanetti diciamo da una parte è stato un arbitraggio a due perché paternicò e mazzoni hanno dominato l'incontro è rimasto veramente poco per giovanetti hanno arbitrato anche sono stati molto interventisti soprattutto quattro falli nel primo minuto non sempre del tutto coerenti con la linea non credo siano stati assolutamente decisivi nella partita però l'arbitraggio è stato muscolare quasi a mio avviso nella gara e non so da questo punto di vista se il fatto che giovanetti sia rimasto così indietro sia un bene o sia un male se avesse forse alzato anche lui troppo l'asticella probabilmente ci saremmo trovati troppi falli per la partita che è stata comunque la mia pagina è 6 e mezzo paternicò 6 amazzoni 5 e mezzo giovanetti fatemi sapere cosa ne pensate ho tolto l'audio al commento perché non mi piaceva il commento di castelli e chicca macchia ho visto la partita su aerosport iscrivetevi al canale aspetto i vostri commenti ciao a tutti e un bacio da lox